Nonostante eventi di tempesta che arrivano da Roma e un probabile election day che non fa certo dormire sonni tranquilli, il Partito Democratico si gode la vittoria alle primarie del campo progressista. Non era affatto scontato e qui in provincia, ad esempio, Caterina Chinnice ha vinto Sienega e Zebo che nel voto online con una percentuale in proporzione, seconda solo al voto di Palermo. I DEM locali adesso fanno il punto della situazione dopo aver in qualche modo disinnescato in città e in provincia un voto che fino alle previsioni della vigilia sembrava polarizzato contro il PD. I numeri però alla fine hanno dato ragione ai DEM, adesso però c'è da capire quanto e come durerà l'alleanza su cui si sono costruite le primarie. Io guardo i numeri, la matematica è un fatto oggettivo, Caterina Chinnice ha vinto in Sicilia, Caterina Chinnice ha vinto in provincia di Catanissetta, Caterina Chinnice ha vinto in Gera. Questo è il dato politico, tutto il resto diciamo sono riflessioni che si fanno a margine dei numeri però che incontrovertibilmente hanno premiato Caterina Chinnice come candidata a Presidente della Regione del campo progressista, c'è un accordo tra le forze che hanno condiviso questo percorso, ringraziamo tutti per la partecipazione, ringraziamo chi ha partecipato, c'è un patto, mi auguro che quel patto si porti avanti e che tutte le forze che hanno partecipato provando anche ad allargare il campo per battere le destre attraverso le questioni che riguardano le persone con una candidata che ha gambe, pelle e polmoni per poter dare una risposta adeguata alla Sicilia e ai siciliani nel posto musumeci. La caduta del governo Draghi ha di fatto creato uno strappo profondo in quella che in Sicilia si è presentata come coalizione progressista. I rapporti tra Dem e Grillini sono ai minimi ma per gli esponenti del PD locale si deve andare avanti insieme. Il partito siciliano è un partito che ha l'autorevolezza e il prestigio per portare avanti qualsiasi questione, il problema è esattamente l'opposto, cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle. Ha partecipato alle primarie, noi siamo qui, il segretario regionale ha detto che è pronto a costruire questo tipo di alleanza, il segretario nazionale ha detto che la vicenda siciliana è una vicenda regionale e che quella vicenda va rispettata, la Chinnici ha vinto le primarie, tutti insieme a pedalare per far sì che Caterina Chinnici, quello che rappresenta, possa essere il prossimo presidente della regione. Il segretario provinciale Dem non esclude però la volontà di allargare l'attuale campo progressista a forze più moderate, così come già anticipato dalla stessa Chinnici. Noi dobbiamo allargare il campo a tutte le forze politiche che hanno o che vogliono condividere un'agenda politica che parte dall'agenda sociale e finisca dall'agenda ambientale, che sia di netta rottura rispetto alla gestione musumeci. Noi sui temi vogliamo allargare, non sulle persone che rappresentano partiti o movimenti. Il Partito Democratico oggi potrebbe essere presuntoso e arrogante, forte di un dato regionale che lo vede vincente alle primarie e tuttavia noi con grande umiltà diciamo, partiamo da qui, attraverso il nostro programma e attraverso la candidata che ha vinto e attraverso le energie degli altri due candidati, vediamo chi ci sta per costruire un'alleanza che abbia le caratteristiche per battere musumeci, cominciando non dalla sommatoria delle forze politiche, ma dai temi. Mano tesa al Movimento 5 Stelle dunque, ma non solo. Mano tesa a tutti coloro, a tutte le donne, a tutti gli uomini di buona volontà che vogliono costruire un'alternativa al peggior governo della storia dell'autonomia siciliana.